Buon pomeriggio, bentrovati alla prima edizione del Tg6. In apertura l'economia, Confindustria e Cresa hanno presentato oggi nella sede degli industriali di Pescara il rapporto sull'andamento del manifatturiero abruzzese nel primo semestre del 2017. Vediamo insieme i dati nel servizio di Paolo Renzetti. Il sistema manifatturiero abruzzese mostra una lieve fase di crescita con risultati sul mercato interno migliori di quelli sull'estero e incrementi su base anno assai più contenuti di quelli su base semestrale. Lo dicono i dati pubblicati e resi noti oggi dal Cresa Abruzzo e da Confindustria. Sono dati confortanti che vanno nella direzione di una ripresa. Noi li stiamo presentando in questa occasione per la prima volta unitamente al Cresa con il quale abbiamo fatto un accordo e quindi per la prima volta stiamo presentando questo piano concentrato nelle due posizioni associative Camere di Commercio e in Confindustria. I dati sono in ripresa certamente in linea con quelli nazionali e quindi europei. In Abruzzo c'è da fare ancora molto però perché per agganciare ulteriormente la ripresa bisogna che ci sia una pubblica amministrazione che recepisca le esigenze delle imprese, che abbandoni in qualche maniera la cultura anti-impresa che continua a imperversare nella nostra regione. Una pubblica amministrazione 4.0 in pratica perché noi siamo lanciati come imprese nella evoluzione di questo nuovo paradigma produttivo che è costituito dall'industria 4.0 ma per attenere le velocità e l'evoluzione di questo nuovo schema operativo bisogna che ci siano risposte concrete anche da parte della pubblica amministrazione. Ed ora una notizia di cronaca. Hanno usato l'acetilene per compiere il terzo colpo in un mese alla stazione di servizio Kuwait di Terra Bianca lungo la superstrada Teramo Mare. Il boato dell'esplosione avvenuta verso le 3.30 ha fatto saltare la cassaforte ma non è stato abbastanza forte però da svegliare i camionisti che dormivano nei loro mezzi nell'area di sosta del distributore. Stavolta la banda ha preso di mira la cassa automatica dove il personale verse il denaro alla chiusura dell'esercizio. Ieri sera c'erano poco più di 1.200 euro i ladri li hanno presi lasciando cadere solo qualche banconota bruciata. Sono ingenti, li vedete, i danni alla struttura la stazione di servizio Terra Bianca è stata presa di mira già il 20 novembre scorso quando fu rapinata la commessa del bar annesso all'area di servizio aggredita da un uomo incappucciato che si è fatto consegnare 30.000 euro e il 4 dicembre con un bottino di oltre 10.000 euro. Proseguiamo con la politica. Presentato oggi a Pescara dall'assessore regionale Donato Di Matteo il disegno di legge in materia di urbanistica, norme di governo, tutela e uso del territorio che è stato approvato nei giorni scorsi dalla giunta abruzzese. Vediamo insieme il servizio. Sessore Di Matteo, oggi un convegno importante qui all'Arum a Pescara per parlare di tutela e di uso del territorio. I dati più importanti della giornata saranno per la prima volta una legge urbanistica con poche pagine rispetto a quella che era l'andazzo storico dove si facevano quei grandi faldoni che solo per leggere ci volevano i mesi e complicavano la testa sia all'utente sia all'amministratore e sia al legislatore. L'altro aspetto che poi è collegato al primo è la sburocratizzazione che è una necessità, un'esigenza della società moderna. Va detto che poi tra le finalità la forza di questa legge è quella che cerca di coniugare in maniera significativa il rapporto tra il governo del territorio che dovrà essere sempre legato alla sostenibilità, alla vivibilità e alla qualità del territorio stesso, evitando di utilizzare nuovi terreni per cui scinde la parte edificata dalla parte non edificata, a differenza del passato dove nei piani regolatori c'erano le aree e nella parte edificata c'è la possibilità di spaziare per la rigenerazione, per il recupero dei fabbricati, i meccanismi di perequazione, compensazione, tutto quello che può essere anche interpretato nel rapporto pubblico preato per rilanciare l'edilizia. Circa 1000 iscritti e 11 circoli territoriali, questi i primi numeri del Movimento Azione Politica, ieri c'è stato a Pescara l'evento di lancio dal titolo Aziona Labruzzo, il coordinatore regionale del Movimento Civico Gianluca Zelli ha annunciato anche il dialogo in corso con Fitto e Costa per presentare la lista alle prossime elezioni politiche, vediamo. Sono 11 i circoli territoriali in cui orbitano almeno 100 attivisti, 4 i direttivi provinciali all'Aquila, a Teramo, a Chieti e a Pescara e 5 i gruppi di lavoro tematici su cui si elabora il programma secondo i temi turismo, welfare e sanità, lavoro, impresa, agricoltura ed Europa. Sono i numeri con cui si presenta il Movimento Azione Politica che ad oggi conta circa 1000 iscritti. L'imprenditore Gianluca Zelli, ieri pomeriggio a Pescara, ha raccontato la sua idea del Movimento Civico nell'evento Aziona Labruzzo. Azione Politica è un movimento civico che chiaramente nasce dalla base, dal territorio e dall'ascolto delle persone e l'obiettivo chiaramente è quello di ridare dignità alla politica e soprattutto alla sua vera funzione, che è quella di dare risposte ai territori. Quale sarà il primo banco di prova di azione politica? Sicuramente stiamo lavorando per fare in modo che siano le elezioni politiche, quindi ci stiamo muovendo in quest'ambito. Ci sono buone opportunità in questo momento di ragionare con la lista laica che si sta costruendo all'interno del centro-destra, quindi prossima settimana speriamo di dare qualche risposta anche su questo. Il nuovo Movimento Civico Liberale e Popolare di area di centro-destra è partito quest'estate aggregando varie esperienze provenienti dal mondo civile e da quello politico. Uno fra tutti l'ex vice sindaco di Pescara, Berardino Fiorilli. Sì, è un progetto nuovo che ha dentro tanto entusiasmo, forse giovani ma anche esperienza. Oggi l'antipolitica rischia di demolire tutto senza proporre nulla da ricostruire. Noi abbiamo voluto evidenziare le criticità ma allo stesso tempo fare delle proposte concrete che siano anche sostenibili grazie a uno studio che c'è alla base di questo progetto ma anche all'esperienza amministrativa di alcuni di noi. Restiamo ancora a Pescara. Andiamo a vedere l'Ecoforum Abruzzo 2017, una giornata incentrata sul riciclo dei rifiuti con la premiazione dei comuni ricicloni, ovvero tutte quelle realtà virtuose abruzzesi in costante crescita nell'ambito dell'economia cosiddetta circolare. I dati sono positivi con un aumento del 50% del riciclo in Abruzzo. Sentiamo. Numeri positivi per il riciclo nella nostra regione, Mazzocca. Dati importanti che evidenziano un raddoppio del riciclo nei comuni della nostra regione. Sì, un aumento del quasi del 50% rispetto al dato dell'anno precedente e ormai la metà dei comuni in Abruzzo hanno queste performance che superano la media nazionale. Un dato importante per il quale va dato sicuramente atto ai comuni e ai sindaci che hanno saputo interpretare le politiche tese a realizzare sui propri territori una vera circolarità nell'economia, ma certamente fosse anche in minima parte un riconoscimento della bontà delle azioni e delle politiche messe in campo dalla regione negli ultimi tre anni perché è riuscita non solo ad approvare il nuovo piano di gestione dei rifiuti che prevede un ricorso univoco ai temi del riciclo, del recupero, del riuso e un chiaro e secco no a ogni ipotesi di incenerimento, ma che nel frattempo è riuscito a mettere in campo attuando una serie di iniziative, circa 120 interventi disseminati sul territorio per realizzare la prima parte della rete regionale del riciclo attraverso piattaforme ecologiche, impianti di compostaggio, centri di raccolta, centri di riuso senza i quali impianti e parlare poi di economia circolare, dare concretamente la possibilità ai comuni di agire diventa davvero opera difficile. Andiamo in provincia dell'Aquila, mancano i posti letto in ospedale, bambini non accolti in pediatria ma spediti ad Avezzano dal capologo di regione. I sindacati insistono da tempo sulla revisione della pianta organica. Sentiamo insieme il servizio della redazione aquilana. Una carenza cronica di posti letto all'ospedale San Salvatore e non fa eccezione la pediatria dell'Aquila, un reparto di eccellenza che è anche un pronto soccorso pediatrico di tutto rispetto. Fatto sta che a causa di questo in più di un'occasione è stato chiesto di far ricoverare i propri bambini ad Avezzano. È accaduto la scorsa settimana per un caso di broncopolmonite ed è accaduta ad una bambina che aveva necessità di un intervento chirurgico, altrimenti sarebbe stata parcheggiata addirittura in geriatria. Non ci sono posti andati ad Avezzano, questo si sono risentiti rispondere dai genitori. Una carenza dicevamo che non è assolutamente una novità e che ripropone il problema della distribuzione probabilmente dei posti nell'osocomio aquilano. Il dramma è che molti utenti vengono parcheggiati in altri reparti, così accade anche al pronto soccorso. La situazione si aggrava nei periodi di ferio in inverno, quando sono sempre di più le richieste. 360 posti letto in totale ci sono nell'ospedale di San Salvatore, ma evidentemente sono mal distribuiti. I sindacati ormai insistono da tempo sulla ridistribuzione della pianta organica. Dopo una lunga attesa, ripetuti incontri e reiterate promesse, è stato finalmente pubblicato sul bollettino ufficiale della regione Abruzzo il bando Caregiver 2017 a favore dei familiari che devono assistere 24 ore su 24 minori in età pediatrica con disabilità gravissime. E questa è una parte del comunicato dell'associazione Progetto Noemi che esprime soddisfazione per la pubblicazione attraverso il suo presidente Andrea Sciarretta, che è il padre della piccola Noemi di Guardia Grele, 5 anni, affetta da atrofia muscolare spinale, l'asma 1. L'associazione è stata in prima linea per far istituire il fondo nel 2015 e poi di volta in volta per garantire l'adeguata copertura economica, arrivando spesso ai ferricorti con la regione. Il bando 2017 infatti era atteso dal mese di aprile, ma il budget da 200 mila euro è stato assegnato solo martedì scorso con l'approvazione all'unanimità in Consiglio regionale di un emendamento dal mese di aprile, continua la nota dell'associazione, lottavamo per avere queste risorse in bilancio. Noi, dice Andrea Sciarretta, avevamo chiesto in realtà una copertura di 280 mila euro per ampliare la platea dei beneficiari, ma ci riteniamo comunque soddisfatti. L'importante infatti era attivare il bando nel più breve tempo possibile. Villa Dorotea, braccio di ferro tra proprietà e sindacati, si lavora per trovare un accordo e garantire soprattutto 70 posti di lavoro, quelli attualmente impiegati che servono a dare respiro anche al territorio della provincia dell'Aquila. Vediamo il servizio. Amica Assistenza, la cooperativa che subentrerà nella gestione di Villa Dorotea scoppito a Elp Donna di Alfonso Piccinini, garantirà il rientro di tutti i 70 lavoratori finora con il fiato sospeso, questo almeno a parole. La proprietà, e cioè l'imprenditore Enrico Vittorini, aveva già fatto sapere di non poter riassorbire i 70 dipendenti, attaccando duramente i sindacati attraverso le pagine di Abruzzo Web. Assistenza Amica in realtà ha stipulato un contratto per la gestione il 4 dicembre con la proprietà, ma questo in assenza dei sindacati CGL, CISL, Willu, GL e Narsind a tre giorni dal tavolo prefettizio che era stato convocato e nel quale i sindacati avevano chiesto a Vittorini di riassorbire i 70 dipendenti, facendo traghettare alla vecchia cooperativa Elp Donna di Piccinini la gestione sino al 31 dicembre, scartando quella soluzione che cioè il 4 dicembre era stata messa su carta. Fatto sta che i sindacalisti non hanno partecipato alla presentazione di Amica Assistenza, che è rappresentata da Liviana Corona. Amica Assistenza, secondo la proprietà, è in grado di assicurare il lavoro, loro no. La stessa cooperativa ha annunciato attraverso una nota di riprendere tutti i lavoratori con le stesse condizioni. Nella nota di Amica Assistenza si leggono anche le dichiarazioni a nome del vice sindaco Liris, il quale presente invita le parti a trovare una rapida intesa al fine di tutelare l'offerta sanitaria a livello occupazionale. Del resto parliamo di 70 dipendenti che finora restano alla finestra e guardano con trepida attesa quella che sarà la soluzione. Continuiamo con il nostro giornale. Gli impianti e la cabinovia dei Prati di Tivo riapriranno appena concluse gli interventi di messa in sicurezza antivalanga che la provincia di Teramo sta effettuando sulle versante della montagna teramana. Intanto il forte evento di questa notte ha provocato danni consistenti in molti comuni dell'entroterra. A Castelcastagna è volato via l'intero villaggio di Babbo Natale. Sentiamo il servizio di Tania Bonici-Castelli. La provincia di Teramo torna a gestire direttamente gli impianti e la cabinovia dei Prati di Tivo. Quest'anno però con tanta sicurezza in più, grazie ad un finanziamento di 2 milioni di euro del masterplan che prevede interventi antivalanga sul versante della montagna teramana. Così ultimati i controlli di sicurezza e sistemati i conti in rosso delle passate gestioni per il Presidente Renzo Di Sabatino. Questa sarà, neve permettendo, un'ottima ripartenza per la stazione sciistica. Ci sono varie opere e vari impianti che devono essere realizzati. Partono intanto da un sistema molto tecnico che non saprei neanche spiegare di sicurezza in presenza di eventuali rischi valanghe. Un sistema per il quale c'è in corso la progettazione, anzi è terminata. C'è un'unica società che fornisce queste impiantistiche che si chiamano Obelix. Naturalmente a regime questi impianti ci saranno per la stagione successiva. Nel frattempo stiamo mettendo in campo tutta una serie di accorgimenti attraverso acquisto di materiali che aumentano la sicurezza e anche attraverso una più pressante vigilanza da parte dei valangologi. L'Assemblea dei Soci aveva dato il mandato, perché nel momento in cui ha approvato il budget della stagione aveva dato il mandato per l'apertura al 15 dicembre, cioè ad oggi. Ci sono state due problematiche. La prima, vabbè, non c'è neve, quindi la situazione è quella che è. La seconda è che il forte vento ci ha rallentato i lavori di ripristino. La provincia da un anno a questa parte ha messo in campo un'attività che è volta a tenere aperta la stazione sia d'inverno che d'estate, ad avere una certezza dei costi, perché per esempio quest'estate nonostante la riapertura in ritardo, peraltro come altri anni, tutto sommato la stazione è andata inutile. Vedremo adesso i costi di questa stagione, stiamo riducendo considerevolmente i costi della società partecipata. Io conto l'anno prossimo di tornare a proporre agli operatori privati la gestione degli impianti. Intanto a causa del vento di questi ultimi giorni si contano danni consistenti in tanti comuni della montagna teramana. A Castelcastagna, per esempio, il villaggio di Babbo Natale è letteralmente volato via, ma i bambini lo sanno che è solo una magia. In una notte le renne lo ricostruiranno. Andiamo a Francavilla adesso, dove è tutto pronto per l'inaugurazione del nuovo Palazzo Sirena, al cui interno c'è un auditorium. La Giunta Luciani sta lavorando per costruire un nuovo look per la parte centrale della città. Vediamo insieme il servizio. Quella di oggi è una giornata storica per Francavilla. Sindaco Luciani, Palazzo Sirena torna a nuova vita e con un nuovo e rinnovato auditorium. Eh sì, è proprio una giornata storica. Il termine è corretto, non dobbiamo aver paura di usarlo. Questa struttura ha avuto l'agibilità a distanza di 27 anni dalla sua costruzione. Noi italiani ce la prendiamo comoda, però oggi finalmente ci troviamo dentro il Palazzo Sirena rinnovato, perfettamente agibile, con tutte le sue certificazioni. Questa sera lo inaugureremo nel migliore dei modi, con presenze importanti e soprattutto con tanti cittadini francavillesi che sono curiosi di vedere questa nuova struttura. Nuova struttura che si apre alla città, il Palazzo Sirena, ancora di più diventa il simbolo di Francavilla al mare. È il simbolo di Francavilla al mare, lo è sempre stato, lo sarà per sempre e inoltre questa struttura sarà in grado di rilanciare l'economia cittadina perché, come ho spiegato in più occasioni, questi sono 270 posti che verranno riempiti per almeno 100 volte l'anno, quindi significa portare 27 mila persone al centro della città, significa economia per i bar, per i negozi, per tutto il settore del commercio e del turismo. Una giornata, questa importante, che anticiperà probabilmente di qualche mese un'altra giornata da ricordare, quella che vedrà la nascita della nuova piazza di Piazzale Sirena. Sì, ora c'è ancora tanto da fare, c'è il portale da riprogettare con gli architetti Ricci, Conti e Moccia che hanno ottenuto il riconoscimento di questa struttura come struttura di elevato valore architettonico e artistico da parte del Ministero dei Beni Culturali, quindi un portale da rifare, ma soprattutto una piazza da rivedere completamente, una piazza che termina con il suo pontile a mare, quindi tutto un centro cittadino che andrà ristrutturato e rivalorizzato. Cambiamo decisamente argomento, avviare il percorso che conduce verso il riconoscimento del marchio IGP a tutela del prodotto simbolo dell'area vestina, cioè l'arrosticino. Se ne è discusso a Civitella Casanova nel corso di una tavola rotonda organizzata dall'Associazione Anno Mariano 1954 in collaborazione con l'Accademia dell'Arrosticino. Vediamo insieme il servizio di Vestina News. Qui a Civitella parte un percorso possibile per arrivare a un marchio IGP per quanto riguarda l'Arrosticino d'Abruzzo. Stiamo cercando con gli amici dell'Associazione Anno Mariano 1954 di avviare un percorso per arrivare ad un marchio di qualità europeo, un marchio IGP, quindi identità geografica protetta, perché crediamo che sia l'unico modo per tutelare questo prodotto, per promuovere una ricaduta economica sul territorio, evitando che l'arrosticino venga fagocitato da realtà extra-regionali. L'obiettivo è quello di dare strumenti di identificazione di questo prodotto, certificato nel suo legame con il territorio, su basi di qualità, che premino la buona fede dei consumatori e che diano appunto alle imprese la possibilità di promuoversi meglio di più non solo sul territorio italiano, ma anche in un contesto internazionale come già molte imprese fanno vendendo all'estero i propri prodotti. Quindi crediamo che l'IGP sia un'occasione ed una necessità irrinunciabile. Crediamo fortemente in questo prodotto che è il prodotto principe non solo di Civitella ma di tutto l'intero comprensorio e speriamo appunto che insieme ai produttori e a chi comunque lavora in questo campo si riesce a capire l'importanza di questa iniziativa. Forse in questo periodo di difficoltà per quest'area bisogna remare tutti dalla stessa parte? Certamente, credo che questa sia la prima condizione affinché si possa riuscire a promuovere qualcosa che di suo giova fortissimo come la Rosticino e stare insieme farà sicuramente la differenza. Ieri il Pescara ha superato il Francavilla per 4-1 in amichevole in gol Benali, Cocco e Mancuso con una doppietta. Si è rivisto in campo Cesare Bovo che nella seduta singola mattutina odierna si è allenato con il gruppo al pari di Fiorillo che difenderà regolarmente i pali della porta delle Pescara. Si è fermato anzitempo Cocco per un fastidio ai flessori. Col Novara saranno assenti Balzano, Gans, Pigliacelli, Latte Latte e Campagnaro. Quest'ultimo al nostro microfono aveva dichiarato di sentirsi l'ultima ruota del carro nel gruppo di Zeman. Sull'argomento è intervenuto il presidente Daniele Sebastiani che ha anche smentito voci di dimissioni del tecnico Boemo dopo la gara di Cesena e ha parlato del suo viaggio in Romania ad inizio settimana. A meno che non l'abbia detto a qualcun altro, sicuramente il mister non ha detto che si dimetteva anche perché ve lo dico perché tanto non ho sicuramente pedi sulla lingua e lo sapete se si fosse dimesso non l'avrei sicuramente fatto restare perché per me ci vuole gente convinta, non gente che devo convincere. Il Campagnaro se si mette a posto fisicamente sicuramente diventa la prima ruota del carro, non l'ultima. E' evidente che se Campagnaro non sta bene non può diventare la prima ruota del carro perché purtroppo è vero che Campagnaro è un giocatore importante, è vero che Campagnaro può essere un leader, però voi sapete tutti quanti che poi bisogna stare in campo. Sicuramente magari qualche partita avrebbe potuto farla nel periodo in cui stava benino, però bene non c'è stato mai, quindi purtroppo non è responsabilità di nessuno. Noi sapevamo che Campagnaro poteva darci quello che poteva darci Campagnaro e la conferma di Campagnaro è stata una conferma di consapevolezza da parte di tutti. Ma è per primo che è un giocatore importante, che a noi ha dato tanto, può diventare veramente qualcosa in più, però deve stare bene. Io sono andato più che per metrizza, sono andato per chiudere degli accordi che avevamo già messo in piedi con alcune accademie che sono lì, che sono molto attrezzate, che hanno tanti giovani bravi, perché comunque oltre a guardare al quotidiano bisogna anche guardare al futuro e quindi a febbraio arriverà una delegazione di questi ragazzi che verranno qui a fare una settimana con noi. Si lavora come al solito per guardare anche al futuro. C'erano già stati tecnici e io sono andato solo per chiudere gli accordi perché di questo poi mi occupo personalmente. Adesso scendiamo di categoria, lasciamo la Serie B per parlare della Serie C, dunque del Teramo, seduta di rifinitura stamattina per il Diavolo in partenza per Reggio Emilia dove domani alle 18.30 affronterà la Reggiana. Non convocati Amadio e Fratangelo, conferenza stampa di Asta che ha scelto il 3-5-2 con Graziano Playmaker, Milari e De Grazie interni e la davanti formata da Tulli e Baccio Terracino. Ascoltiamo le ultimissime in casa biancorossa nel servizio di Ania Cantagalli. Ultima trasferta dell'anno domani per il Teramo che sarà impegnato in casa della Reggiana al Mapei Stadium. I biancorossi cercano una vittoria in trasferta che finora in stagione non è mai ancora arrivata e proveranno a farlo con alcune novità di formazione perché probabilmente dopo il gol vittoria contro il Fano Asta confermerà la scelta degli ultimi minuti di gara di sabato scorso. Varerà un duo mignon in avanti con Baccio Terracino e Tulli e con l'inserimento a centrocampo probabile di Graziano visto anche il forfè di Amadio. Con due attaccanti, anche due centrocampisti, soprattutto i due attaccanti, poi vedrete domani ma se qualcuno ha già capito quali saranno le mie intenzioni, di avere dei giocatori rapidi, dei giocatori veloci per ripartire molto perché loro è una squadra che attacca con molti giocatori. Dobbiamo fare molta densità e ripartire immediatamente. Ogni partita ha la sua storia e quindi in certe situazioni bisogno di uno che davanti ti difende e parla per far salire la squadra, domani abbiamo bisogno di ripartire velocemente e lui è uno di quelli anche se è esterno che ci può far ripartire come può essere De Grazi in mezzo al campo o i due attaccanti dove li sceglierò domani in funzione proprio per questo motivo. Credo che come tutte le cose, soprattutto contro questa squadra che ti dà spazio, te lo dà e quindi abbiamo bisogno di campo aperto, gente che corre. Con quello soprattutto sarà la scelta, è stata la mia scelta in settimana. Domani sarà anche l'ultima gara del girone di andata dopo la prima giornata di ritorno che si giocherà venerdì e prossimo proprio qui allo stadio Bonolis contro il Mestre e Asta esprime anche un desiderio di fine 2017. Mi piacerebbe pensare già da un po' la positività che io devo trasmettere anche alla squadra nell'usare un po' di più. Dobbiamo usare, lo possiamo fare, ma non perché prima eri una maniera, adesso le ultime partite sei diverso, no? Perché non è questo. È qualcosa di inconscio. A volte è vero il risultato ti condiziona, il pareggino va bene, piano piano. Invece dobbiamo pensare. Poi ogni partita sarà una partita diversa e difficile, che anche a Reggio è una partita difficile, ma voglio di nuovo ritrovare quella squadra garibaldina, una squadra combattiera che riparte a mille all'ora, che possa mettere in difficoltà gli avversari. Il tecnico Biancorus è tornato poi anche su alcune esternazioni in settimana fatte da alcuni giocatori, Bacio Terracino e Altobelli, nello specifico che non hanno escluso la possibilità di partire nel caso arrivassero altre offerte che garantirebbero maggiore minutaggio ai giocatori biancorossi, ma il tecnico è stato abbastanza lapidario quest'oggi in conferenza stampa. Chi non è contento, anche chi ha giocato, chi ha giocato molto e non è contento, non fa per noi, non può fare per nessuna squadra secondo me. Quindi lui come altri, noi siamo aperti a qualunque soluzioni, perché abbiamo parlato con la società, vogliamo gente che rimanga convinta, perché è un progetto che è iniziato a giugno, lo sappiamo a luglio, scusate, e lo vogliamo portare avanti. Chi non è contento, perché o ha giocato tanto o ha anche giocato poco, è giusto che faccia le sue scelte, ma sono scelte sue. Noi vogliamo pensare alla squadra più che mai. Ancora un salto indietro di categoria. In Serie D il Francavilla ha annunciato l'arrivo di un nuovo giocatore. Si tratta del centravanti serbo Bojan Aleksic, prelevato dal Taranto. In vista della trasferta con il Monticelli, con la quale i giallorossi chiuderanno il girone di andata. Ieri la squadra di Iervesi ha disputato un buon test al poggio degli olivi, come abbiamo detto, contro il Pescara. Nella sconfitta per 4-1 è andato in gol il difensore Romeo, che andiamo ad ascoltare con Andrea Costantini. Romeo, segni in campionato, segni in Coppa e ti togli anche la soddisfazione di segnare un gol in questa amichevole di lusso con il Pescara? Sì, è inutile negarlo, che ovviamente fa piacere. È stato un buon test per noi oggi. Abbiamo affrontato una squadra di categoria superiore. Però la testa è a Monticelli. È vero, era importante fare bella figura, però è molto più importante domenica cercare di ottenere i tre punti. Un Francavilla che è ai margini della zona play-off è un obiettivo chiaramente alla vostra portata e che non vuol dire che sarà facile tutt'altro. No, di facile veramente non c'è nulla. Noi dobbiamo continuare su questa linea, da un bel po' di partite che facciamo belle prestazioni, otteniamo anche dei punti. Dobbiamo continuare come ho detto prima su questa linea, con la solita attenzione, come ripeto io, con la fame, con la voglia di andare a prenderci il risultato. I risultati si stanno vedendo, dobbiamo continuare così. Per preparare la gara con il Monticelli, prima cosa da fare è non guardare la classifica che può essere bugiarda, perché il Monticelli ha appena vinto la prima partita del campionato, quindi è una squadra che è in ripresa. No, certo. Tutte le partite bisogna affrontarle veramente alla stessa maniera, che si giochi con il Matelica che è primo, con i nero stellati che siano ultimi, con il Monticelli che è lì sotto. Ho detto due domande prima, che dobbiamo affrontarla con la solita tensione, con la solita fame, con la solita cattiveria, perché in questa categoria io credo che si facciano i punti con queste caratteristiche, con queste doti che una squadra deve avere. In chiusura, nei confronti di sette tifosi del campo basso di età compresa fra i 24 e i 36 anni, su richiesta del commissariato di Vasto, il questore di Chieti Raffaele Palumbo ha emesso il divieto di accedere alle manifestazioni sportive, il cosiddetto DASPO, per i prossimi tre anni. Il provvedimento è stato adottato a seguito dei riscontri firmati relativi agli incidenti avvenuti lo scorso 3 dicembre all'esterno dello stadio Aragona, al termine della partita fra Vastese e Campobasso, valevole per il campionato di Serie D. È tutto per questa prima edizione del TG6, io vi ringrazio per essere stati con noi e vi auguro un buon proseguimento con la nostra programmazione. Grazie a tutti.